Le accuse di doping di Stato, le sanzioni statunitensi e le prossime presidenziali. Il silenzioso braccio destro di Vladimir Putin e il premier russo Dmitry Medvedev durante l'intervista annuale con i tv locali rinnova le accuse a Washington di condurre una campagna contro Mosca. Lo scandalo doping, dice una settimana la decisione del CIO sulla partecipazione della Russia alle Olimpiadi Invernali, è strumentale. Abbiamo un problema e stiamo lottando contro questo fenomeno, ma questo tema è ormai una questione politica. Il doping pesa per il 30%, il resto è solo manipulazione politica. Sfortunatamente questo tema è diventato quello principale per svolgere un'altra campagna contro la Russia. Secondo il capo del governo di Mosca, gli Stati Uniti sfruttano le sanzioni per inviare le loro forniture di gas naturale liquefatto in Europa. Medvedev invita Bruxelles a considerare nel pacchetto energetico le forniture russe. Le ultime sanzioni statunitensi sono volte direttamente a ostacolare le opportunità commerciali per il gas russo in Europa. Perché c'è questa posizione così cinica? Vogliamo trasportare il nostro gas naturale in Europa, ma gli americani dicono che i russi stanno interferendo con gli urogastotti e quindi li buttiamo fuori. Il premier conferma anche il suo appoggio a Vladimir Putin per le presidenziali in programma il prossimo mese di marzo. Russia unita, dice vestendo i panni il capo del partito, è pronta a sostenere un presidente di successo.